Ultimo consiglio di amministrazione per il presidente dell'aeroporto d'Abruzzo. Ci sarà un cambio al vertice, una notizia che si è rincorsa nei corridoi dei palazzi regionali da qualche tempo. Oggi arriva l'ufficializzazione. Le intenzioni del governatore D'Alfonso sono state chiarite. Puntare alla privatizzazione dell'aeroporto, aumentare così le tratte verso e fuori l'Abruzzo e aumentare il giro d'affari. Lucio Laureti oggi non si scompone, spiega i risultati del suo operato che hanno portato in Abruzzo un'utenza noverata tra le prime tre in Italia per dimensioni e flussi. Quando sono arrivato io tre anni fa l'aeroporto d'Abruzzo era in una lista degli aeroporti da chiudere. Oggi siamo diventati il secondo aeroporto in Italia al di sotto di un milione di passeggeri dopo Trieste. Siamo aeroporto di interesse nazionale e quindi non ci sono più di questi problemi. Ma pensare di coinvolgere dei privati che vengono ad investire su un'azienda che ha ancora bisogno di sussidi pubblici per finanziare le low cost, cosa che avviene normalmente in tutta Europa. Quindi non ci scandalizziamo di questo e pensare di fare questo prima di aver condotto la società a traguardare almeno l'idea del pareggio di bilancio e secondo me ci vorranno tre, cinque anni lavorando bene, con competenza e con la regione vicino. Ecco, con tutte queste accortezze tra tre, cinque anni secondo me si potrà parlare di privatizzazioni. Una notizia forse già annunciata per i ben informati spiega il Presidente Stato un lavoro compiuto con ottimi risultati. I piani del Governatore d'Abruzzo sono raggiungibili in almeno tre anni. Nel frattempo, su chiunque dovesse ricadere la scelta del nuovo Presidente dovrà avere competenze molto precise. Quando si parla di infrastrutture e di privati esistono molti equilibri da rispettare. Vado via da lì, se andrò via da lì, ma vado via da lì a testa alta consapevole di averci messo tutto l'impegno possibile, immaginabile e anche un po' di competenza se qualcuno me lo riconosce.